I veicoli di questa categoria sono i capostipiti dell'universo rally, auto che hanno trasformato il pilota nel professionista di oggi. A dispetto delle dimensioni compatte, hanno saputo regalare grandi emozioni, come gli splendidi duelli tra la leggendaria Mini Cooper S e la A112 Abarth. Con loro non nacquero delle semplici gare su sterrato, ma una nuova disciplina per tutti gli appassionati di motori. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale ART, siamo di nuovo su Sebastian Lab Relievo per iniziare, come avete visto, la classe auto anni 70. Allora, io avevo già fatto quello dell'Australia, però ve lo ripropongo, giusto per farvelo un po' vedere. Con la nostra lancia fulvia, che non mi sconfinfero onestamente. Devo provare la Mini o la BMW. Va bene, iniziamo subito questa tappa. Ovviamente cercherò di non ripartire. Eccolo qui la nostra fulvia. Poi quando incrociano si vede una mazza. sinistra 4, 130. Sinistra 5, meno 100. Sinistra 5, più in destra 3, chiude per sinistra 5, 150. Sinistra 6, meno 50. Attenzione, destra 4, sudosso chiude per sinistra 4, meno. Occhio, occhio qui, pericolosissimo. Destra 3, in sinistra 4, più per destra 5, 40. Sinistra 6, 60. Sinistra 5, in destra 5, per sinistra 4, per destra 4, apre, 40. Non taglio, non taglio. Sinistra 6, in subito, destra 3, più per sinistra 6, lunga, chiude. Per sinistra 6, chiude, 50. Sinistra 6, per attenzione, destra 6, chiude 3. Questa è chiude 3, ok. Ok. Sinistra 5, su ponte, chiude, in sinistra 6. Per destra 5, lungissima, 60. Questa curva è spettacolare, adesso. Sinistra 5, chiude, per sinistra 6, più. Sinistra 5, chiude, lunga, poi apre, per destra 4, lunga, chiude. Chiude, poi apre. Fa apri e chiudi, come i salumi, va bene. Sinistra 4, più, su dosso, 40. Su asfalto, sinistra 6, lunga, chiude, in attenzione, sinistra 5, lunga, l'incrocio. Come ho fatto a spaccarmi? Cazzo. Ci è andata bene. Anticipiamo. Destra 6, su dosso, 160. Ok. Attenzione, frena in destra 3, più su dosso, per sinistra 4, chiude, 40. Sinistra 5, 40. Destra 5, 40. Sinistra 5, meno. Attenzione, destra 3, meno su asfalto, in sinistra 5, lunga, chiude. Destra 4, più lunga, 50. Sinistra 5, meno, 70. Attenzione, destra 5, frena su dosso, in sinistra 2, all'incrocio, 110. Gugliaia, attenzione, sinistra 5, meno all'incrocio. Destra 5, 90. Oh cazzo. Minchia, non l'ho vista proprio arrivare. Che purtroppo, ragazzi, il parabrezza si... Si inclina con un niente, pure se prende un... Un fosso in maniera sbagliata. Destra 5, 90. Non si vede più un tubo, non si vede. Ecco, appunto. Destra 6, meno, 40. Ci abbiamo il volante storto. Destra 6 per ponte, in sinistra 5, lunga, per ponte. Destra 6, per sinistra 6, meno, 40. Dai, dai, ma che cazzo è? Sentite. Destra 5, meno, per dosso, per sinistra 5, molto, lunga. Ok. In attenzione, sinistra 5, meno, su dosso, stringe, 80. Andiamo un po' per le terre. Attenzione, sinistra 6, in sinistra 4, più, su ponte, 60. Destra 5, più, 140. Siamo ancora in vantaggio, ma abbiamo perso tutto. Destra 6, più, per destra 5, su dosso, 100. Su asfalto, destra 6, 50. Occhio. Momento. Benissimo. Adesso sì. Destra 6, 50. Sinistra 4 per destra 2, lunga. Giaia in sinistra 6, lunga, su dosso, 50. Ci abbiamo una ruota che va a cazzo suo. Sinistra 6, su dosso, 100. Per sinistra 5, su dosso, salta, per destra 6, lunga. Destra 5, meno, 40. Attenzione, destra 6, dosso, salta, in sinistra 6, 50. Salta. Destra 5, più, su dosso, stai a destra, per sinistra 5, 30. Eh, stai a destra, io giustamente me ne vado a sinistra. Destra 6, più, traguardo. A posto. Va bene, questo era giusto per farvi un po' vedere. So sempre soldi, ragazzi. Sono 9000 credit in più. Andiamo a vedere adesso, a fare più che altro, la tappa in Messico, che è un circuito che non mi sconfì in frappi di tanto. Soprattutto con questa macchina, poi. Ok, partiamo anche per questa tappa in Messico. Questa è una tappa molto lenta, quindi ho accorciato molto il cambio. Sinistra 6, per destra 5, lunga, apre, 70. Destra 3, apre, 6, lunga, 40. Sinistra 3, più, 60. Destra 4, più, destra, sinistra 4, per destra 5, lunga, apre. Eh, vabbè, però, sto cosa che si incarta sulla montagna, questo. Forza. Questo è un destra 4, chiude, quindi, ok, a posto. Questo è destra 5. Ecco, sinistra 3, ho usato il freno a mano. Siamo andati nel burro. Sinistra 5, meno, per destra 6, per sinistra 5. Questo cazzo di scalino che sta al lato. Destra 6, sinistra 6, più, 60. Destra 6, meno, destra 4, 40. Destra 5, apre, 40. Sinistra 4, per destra 4, più. Sinistra 5, chiude, per destra 6, sudosso, 50. Chiude, chiude. Sinistra 4, per destra 6. Sinistra 4, che puoi da fare in terza. Ecco, muro. Un momento. Per sinistra 5, più, in destra 6, più, in sinistra 5, più, 50. Quanta grazia. Occhio, ma dai, che cosa significa? Allora la prendiamo dall'inizio proprio Sinistra 5, Giaia, 50 Attenzione, tornante destro, per sinistra 5, per sinistra 4 più Attenzione, tornante destro, apre, in sinistra 6 Destra 5 meno, in sinistra 5 meno, 50 su dosso Attenzione, destra 6, sudosso, intornante sinistro Destra 5 chiude 3, in sinistra 6, sudosso, 40 Questo era un destra 5 Destra 6, destra 5 più, 40 Attenzione, sinistra 3 apre, 50 Questo è sinistra 3, eh Sta andando lentissimo Eh, lo sapevo io Questa è una curvetta di merda Destra 5 più, 40 Sinistra 5 sudosso, per destra 6 Destra 5 più lunga, per sinistra 5 più, sudosso salta Per destra 6 sudosso salta Ah, il dosso Il dosso Calmo, calmo Giriamo in anticipo, ok, adesso andiamo Sinistra 4, in destra 5 chiude, 40 Sinistra 4, 100 Attenzione, destra 6 chiude, in sinistra 2, apre lunga Apre lunga, quindi dovrei farla così senza freno a mano Invece sono andato a schiantare Destra 5 molto lunga sudosso, per destra 5 Attenzione, dosso salta in sinistra 5, per destra 6 meno Eh, no Niente Cerchiamo di anticipare un po', ok, ha funzionato Per sinistra 5, apre Per sinistra 6, in destra 5 più, 50 Cosa 6, destra 5 Destra 6, attenzione, sinistra 5 chiude, 3 sudosso, in destra 4 meno Sinistra 6 chiude, 3 sudosso, in destra 4 meno E qua abbiamo avuto un po' di culo Sinistra 6 lunga, per destra 5, sinistra 6 sudosso, in destra 6, in sinistra 4, in destra 4 chiude Sinistra 5 chiude, 3 sudosso, in destra 6, in destra 4, in destra 4 chiude Scusate, ho tirato una trambata Assurda Eccezionale Traguardo Non ci posso credere, ce l'abbiamo fatta Speriamo di aver fatto un primo posto, perché non ho voglia di riprovare Sì, primo posto Ah, yeah, yeah Va bene, va bene Ora dovrebbe esserci un altro rally, suppongo Sono sette prove anche qui Un po' lungo nei caricamenti forse il gioco Abbiamo recuperato due posizioni nella classifica mondiale Va bene così Debut Debut Ok Monte Carlo Aspettate che mi pare che... No, sono... è una sola Va bene, andiamo Va bene, va bene, asfalto ghiacciato La nostra passione proprio 3 3 2 1 Via 50 50 Cosa cazzo stringe sta pista Siamo in ritardo 6 40 Attenzione tornante destro 30 No Fa Attenzione tornante destro 30 Sinistra 5 meno 40 Mi sono incartato Bene Sono contento Mettiamola da qua Sinistra 5 meno 40 Attenzione destra 6 Per sinistra 2 Lunga Io direi un pochetto di freno a mano ci sta in una sinistra 2 sulla neve E infatti Sinistra 6 40 Destra 4 Lunga per sinistra 2 Più Destra 4 130 Destra 4 Lunga per sinistra 5 Lunga Oh 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 Ma che fa Lunga Ce l'avete visto ragazzi Destra 4 Chiude Attenzione Sinistra 2 40 Stiamo facendo un po' di danni Sinistra 6 Chiude 40 Sinistra 6 Per destra 2 Più 40 Sinistra 5 Chiude 3 140 Destra 5 Meno Molto lunga Per sinistra 3 120 Destra 5 Apre 50 Sinistra 3 Più Per destra 5 Chiude 60 Quattro secondi di ritardo Cazzarola Allora Cerchiamo di farlo un po' meglio Sta curva Mi sono incartato Io non ci credo ragazzi Cioè guardate Partiamo per questa Ultima mancia di questa giornata 50 Destra 4 Lunga 60 Sinistra 5 Meno Molto lunga Stringe 40 Sinistra 6 Meno Per destra 6 Meno Stringe 50 Sinistra 6 Per destra 5 Stringe 60 60 Destra 6 50 Destra 6 Meno Per sinistra 6 130 Stringe Per sinistra 6 Meno 120 Quanto cazzo stringe Quanto cazzo stringe 6 Meno Stringe 100 Destra 6 Meno Per sinistra 5 Meno Per destra 5 Più Sinistra 5 Più lunga Per destra 6 40 Ok nel primo settore Siamo pari Attenzione Tornante Destro 30 Sinistra 5 Meno 40 Attenzione Destra 6 Per sinistra 2 Lunga Destra 6 40 Occhio Destra 4 Lunga Per sinistra 2 Più Destra 4 130 Destra 4 Lunga Per sinistra 5 Lunga Ok allora mettiamo la terza Attenzione Sinistra 2 40 Destra 4 Meno Per sinistra 6 Meno In destra 6 Stringe 120 Sinistra Sinistra Chiude 40 Sinistra 6 Per destra 2 Più 40 Sinistra 5 Chiude 3 140 50 Destra 5 Meno Molto Lunga Per sinistra 3 120 Finalmente Finalmente si apre Circuito Circuito Eh Apre un par di coglioni Apre Che cosa mi aspettavo Sinistra 3 Più Per destra 5 Chiude 60 Eh no No Così No Però Destra 6 60 Sinistra 6 Chiude Per destra 3 Più Sinistra 5 Più In destra 4 Chiude Per sinistra 5 Stringe 40 Sinistra 5 Meno 5 No 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 Un attimo Come ho fatto a incartarmi Boh Vabbè Sinistra 5 Meno 50 Sinistra 5 Più In destra 5 Più 40 Sinistra 6 Meno Lunga Per destra 5 Lunga Sinistra 3 Più Per destra 4 Più 50 Sinistra 4 Più Lunga 70 Attenzione Sinistra 2 Più Su Neve Per destra 5 Meno Molto Lunga Sinistra 50 Sinistra 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 6 Più Su Neve Per Sinistra 4 Apre Su Asfalto 70 70 70 Destra 4 Meno Lunga Sinistra 5 Più 40 Destra 4 Più 70 Sinistra 5 Per destra 4 Più 40 Occhio Successo Niente Sto Cazzo Di fossetto Che sta Allato Pure Qui Qui Sinistra 6 Intornante Sinistro Destra 5 Meno Per Sinistra 6 Lunga Chiude Intornante Destro 40 Destra 5 Più 40 Sinistra 5 Più 40 Sinistra 4 Più Lunga Per destra 3 Più 50 Boom Albero Traguardo Vediamo un po' la posizione Non è andata benissimo Ecco Comunque primo Vabbè Siamo a difficoltà normale E normale Diciamo Va bene ragazzi Questo video termina qui Noi ci vediamo Col prossimo episodio Cercheremo Di finire Il campionato Eh Di Delle auto Anni 70 Ciao a tutti Ciao a tutti